Amici sportivi ben ritrovati, gli highlights di questa settimana sono offerti gentilmente da Evocell e Mobius SRL, main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024. È un'azienda sul mercato italiano da oltre 25 anni, leader per know-how ed esperienze nel settore della produzione di isolanti termici ed acustici. A sede è a Via Albertario 63-65 Fano. Andiamo ora a vedere insieme le immagini del match. Al comunale di Via Onissanti di Bassano del Grappa si affrontano le formazioni del Bassano in divisa giallorossa e del Montecchio Maggiore in divisa bianca, quale gara di andata della semifinale categoria allievi elite under 17. A dirigere l'incontro la signora Costanza Zanitti della sezione di Bassano che ha diretto quest'anno 27 partite di cui molte in seconda categoria. Risultato che finisce 0-0 con un rigore sprecato dal Montecchio Maggiore. Domenica prossima alle ore 16 presso il campo sportivo di Trissino alle ore 16 si giocherà la gara di ritorno. Ricordiamo che chi passerà o meglio chi vincerà andrà direttamente in finale ad incontrare la vincente dell'altra semifinale che si giocherà tra la Liventina o Pitergina e il Caldiero Terme. In caso di parità dopo i 90 minuti si procederà direttamente ai calci di vigore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.